E le squadre scendono in campo in questo preciso istante tra Alma Juventus Fano ed Ami Ternina, Alma Juventus Fano in maglia bianca. C'è Cesaroni che prova a mettere nel mezzo, interessante, adesso Sivilla, la palla è buona, Sivilla, Sivilla, Andrea, Sivilla, è sempre lui, al quarto minuto porta l'Alma in vantaggio. Borelli va via, palla sul sinistro, Borelli mette nel mezzo, Gucci, Gucci, Niccolò, Gucci, 2-0. Toccherà Petrone per Carrato, le urla di Ginestra, il tocco Carrato, palla alta sopra la traversa ma la barriera ha acuito il tiro. Sivilla prova la conclusione, c'è il tiro, la palla resta lì, attenzione, rigore, calcio di rigore per il Fano, c'è stato trattato un tocco con un braccio, attenzione c'è anche il cartellino. Sivilla contro Merlini, possibilità per l'Alma di andare sul 3-0, il fisco del direttore di gara, parte Andrea, Sivilla, il tiro, Andrea! Sivilla, Borrelli, Borrelli, c'è Sivilla, Calibrio, Sivilla, 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 parola il portiere, poi ancora Sivilla, grande parata, doppia parata di Merlini. Strada a Sivilla, ora c'è Gucci in aria, vediamo Gucci, Niccolò si gira, Gucci, il tocco verso Sartori, il tiro, Matteo! Matteo! Sartori! C'è gloria anche per lui! Ci sembra Ciro Carrato, classe 86, che proprio nella gara di andata, su punizione, fece gridare al goli, il fisco della direttore di gara, parte Carrato sul primo palo, Ginestra si tuffa, la palla termina oltre il fondo. Scorrono i titoli di corso su questa partita che l'Alma sta vincendo e convincendo, 4-0. consolidando il secondo posto, dietro l'Alepre e Maseratesi, in gol ancora una volta il 2 delle meraviglie, Gucci e Sivilla, in due circostanze, la seconda sul rigore e poi Sartori nel secondo tempo a mettere il sugello a questa partita. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!